Il calcio è la rassegna di calcio sociale e organizzata dalla WISP, giunta alla nuova edizione. Si esce anche un po' dal guscio di casa, di stare fermi. Sto insieme a tanti bravi ragazzi e mi diverto e sto bene a fare questo sport. Che ruolo giochi? Qualche potere attacca o qualche potere difesa? Da che dipende? Decidono loro. Ma ti diverte più in attacco o in difesa? Più attacco. Perché? Perché con l'attacco c'è più soddisfazione. Oggi non giochi perché c'è la maglia? No perché non ci bastano le magliette. Due tempi di 30 minuti, calcio a 7 ma anche a 1000 per dire. Dove la vittoria più preziosa è portare molti di questi ragazzi a stare una giornata in un prato alla perda. Sembra poco, ma è moltissimo. Grazie. Grazie. Grazie.